e il rete può essere chiamata pressione per evolvere può essere chiamato il non attaccamento di Buddha se Buddha camminasse in questa stanza alcune persone si sentirebbero tese, altre invece rilassate quindi se hai un arco e una freccia e la tiri devi avere la tensione giusta e anche il momento giusto per rilassarti, per far sì che qualcosa avvenga poi potresti pensare ai rete come quel momento in cui lasci la freccia per qualsiasi cosa, esercizi, terapia anche quando si suona un strumento si crea quella tensione dopodiché la si lascia andare senza questa tensione e il rilassamento niente avverrà qui a seconda del libro in cui guardi può indicare la tensione come il rilassamento non ho capito, ma in realtà sono tutte e due necessari per che ci sia i rete non ho capito, ma in realtà sono state è infatti è stato stato un raus un ruppaccio che ci sia la tua un ruppaccio di cui mettere la tendenzione di che ci sia la tua un ruppaccio questa è una persona che Ottura Meji entra in questa stanza e dice andiamo a prenderci un gelato quello avrebbe il suono di un messaggio divino oppure il rete è ugualmente sacro e ti puoi dire è molto più rilassante potrebbe essere il sacro femminile e Ottura il sacro maschile Ottura rete Ottura fuori, rete dentro fuori, direte Ottura direte fuori e Ottura dentro questa persona apparirebbe molto rilassata mentre tiene per mano una spada per cui abbiamo come minimo 256 modi tra cui scegliere di come sentirci in un qualsiasi momento qui basta dire uno di questi uno per quello fuori e l'altro che viene il secondo come si sente dentro qui è Ottura Meji Ottura Meji Ottura Meji Ottura Meji Irette Meji Ottura Meji Ottura Irette Irette Ottura Per cui quattro di fila Per cui se vai in giro come una persona diversa ti sentirai in modo diverso e vedrai anche gli altri in modo diverso credendoli diversi Sto negli altri Abbiamo Killer some Poi seeing la Church Mettato Senti Mettato dei Maushing di si, se porto quello nessuno potrà poi parlare questa è una esperienza anche verbale ottimizzare in America quindi con l'oppegirete non è attaccato poi quando vedrete dentro non c'è l'attaccamento si lasciano le cose così come stanno senza stare lì a fermarsi su come dovrebbero essere le cose o cosa dovrebbe accadere questo è il non attaccamento interno ma allo stesso tempo è una dedizione esterna quindi puoi ottenere molte cose potenti nella tua vita se sei in uno stato di non attaccamento ma il problema è se non segui questo se diventi attaccata dentro e a quel punto la dedizione esterna non avrà più una direzione per cui ogni volta che vedi ciò succedere ritorna a sentire la perfezione ritorna a sentire la perfezione fuori c'è questa forza creativa e dentro il lasciare andare e dentro il lasciare andare a meno che ti concedi l'abbondanza che si avvicini verso di te non c'è